a fano denunciati gli imbrattatori delle mura augustee tenta di buttarsi dal quarto piano suicidio sventato in viale trieste scuole parte una stagione di tanti cantieri overbooking di sport al paladì il comune studia gli incastri l'università dell'età libera riparte con 120 corsi telespettatori di rossini tv buonasera e bene benvenuti a questa nuova edizione di rossini news il telegiornale di mercoledì 16 agosto che apriamo occupandoci di una tematica sempre più attuale che a quanto pare non risparmia il nostro territorio quello di vandali che deturpano opere d'arte e monumenti storici è il caso di fano dove il 5 agosto scorso è partita la denuncia per l'imbrattamento di parte delle mura augustee oggi carabinieri e polizia locale hanno individuato e denunciato i responsabili dell'imbrattamento tramite vernice spray arancione circa 5 metri dalle mura romane costituenti bene culturale sottoposto a tutela si tratta di quattro nordafricani senza fissa dimora protagonisti di decine di imbrattamenti sulle mura in questione compresa la scritta tunisi sono stati individuati grazie alle immagini di video sorveglianza presenti nella zona i quattro giovani dovranno rispondere del reato recentemente introdotto nel codice penale di deterioramento aggravato di bene culturale di rilevante interesse archeologico e passiamo alla cronaca di pesaro perché ieri nel tardo pomeriggio di ferragosto in pieno viale trieste una turista di 53 anni di origine bulgara è stata salvata da un tentativo di suicidio grazie all'intervento congiunto di carabinieri vigili del fuoco e mezzi del 118 attorno alle 18 e 30 la donna ha infatti minacciato di buttarsi dal terrazzo al quarto piano dell'hotel nettuno sul lungomare di ponente una situazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di tante persone in viale trieste i carabinieri sono riusciti a penetrare nella stanza d'albergo della donna grazie a un passepartout e a convincerla ad esistere dall'insano gesto motivato a quanto si apprende dalla scoperta di un tradimento da parte del marito rientrata in camera la donna avrebbe abusato di farmaci ed è stata così trasferita in ambulanza all'ospedale attorno alle 13 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in via monte castellaro nella zona san bartolo a causa di un incendio sviluppatosi in una legnaia di un'abitazione privata che si è poi propagata in un campo vicino per 400 metri quadrati l'incendio è stato sedato dalla squadra boschiva dei vigili del fuoco senza il coinvolgimento di persone sul posto anche le indagini dei carabinieri forestali e invece come si vede da queste immagini inviateci da un nostro telespettatore che ringraziamo la polizia locale di pesaro è intervenuta ieri sera per un tamponamento fra due auto sulla monte labattese poco prima della sede dell'abs in direzione valle foglia una delle due auto è finita in un fossato adiacente alla careggiata ma non si sono rilevati feriti le immagini che vi mostriamo ora invece provengono dal porto di ancona dove alle 10 30 è sbarcata la nave humanity 1 con a bordo 106 migranti fra cui una donna incinta due neonati e un numero imprecisato di minori stranieri non accompagnati si tratta di migranti salvati venerdì a largo della costa dalla ong tedesca united for rescue la prima accoglienza sarà gestita dalla prefettura di ancona si tratta del sesto sbarco di migranti nello scalo dorico da inizio 2023 e ora cambiamo argomento parliamo di edilizia scolastica perché a pesaro sono alle porte una serie di investimenti senza precedenti fra efficientamenti energetici demolizioni e ricostruzioni nel prossimo servizio facciamo una panoramica dei cantieri che stanno per partire in città a meno di un mese dal via all'anno scolastico 2023 2024 fissato per il 13 settembre pesaro si prepara ad una stagione di tanti cantieri relativi all'edilizia scolastica che mettono assieme oltre 20 milioni di euro di investimenti fra efficientamenti energetici nuove edificazioni demolizioni e ricostruzioni rientra in quest'ultima categoria il nascente polo dell'infanzia di via rigoni dove sta per avviarsi la demolizione della scuola dell'infanzia scarabocchio di soria per una nuova struttura che prevede un nido per 30 bambini e una scuola dell'infanzia con 5 sezioni da 25 bambini ciascuna si tratta della prima messa a terra di un investimento con fondi pnrr sull'edilizia scolastica pesarese quasi 4 milioni di euro di lavori per un'opera che dovrebbe concludersi a inizio 2025 nel frattempo a settembre gli alunni della scarabocchio saranno trasferiti in via le trieste assieme a quelli della primaria mascarucci e della media dante alighieri che già da un anno è nei locali di pesaro studi già perché la dante in via gattoni e uno degli altri istituti chiamati ad demolizione ricostruzione che con i suoi 6 milioni e mezzo rappresenta l'investimento più oneroso del comune altra demolizione ricostruzione prevista è quella della scuola anna frank di santa maria delle fabrecie anch'essa finanziata da fondi pnrr per 3 milioni e 6 da completare entro marzo 2026 periodo in cui gli alunni saranno trasferiti al centro civico di vismara entro metà settembre sarà affidato invece il cantiere per la radicale riqualificazione della scuola media manzoni con 5 milioni e mezzo di intervento per trasformarla in edificio enzeb all'avanguardia dal punto di vista energetico per un efficientamento completato alla vicina don bosco e alla scuola di via fermi a monte granaro fra le nuove edificazioni si lavora anche per la palestra dell'istituto olivieri in via la marmora pantano e per la nuova mensa scolastica all'istituto pirandello si avvicinano le stagioni sportive 2023 2024 a pesaro saranno ben sei le squadre fra basket volley e calcio a 5 che condivideranno il prossimo anno il paladì di campanara una congestione di partite allenamenti che il comune si dice pronto a gestire tre sport sei società un unico impianto pronto ad ospitarne partite casalinghe e in alcuni casi allenamenti il paladì di campanara è pronto ad un 2023 2024 di full immersion per lo sport cittadino a cominciare dall'essere la casa di due massime serie nazionali la serie a di calcio 5 per quella che l'abituale casa dell'ital service ma anche la serie a di pallavolo femminile con la megabox valle foglia che traslocherà da urbino a pesaro pallavolo che a campanara vedrà anche la presenza del blu volley così come di tre società di basket di serie b inter regionale bramante pisarum e loreto basket un overbooking che il comune sta gestendo trovando gli incastri per accontentare tutti abbiamo già fatto una programmazione oltre un mese fa ancora prima di sapere diciamo della promozione in b inter regionale dell'oreto basket ancora prima di ricevere tutte le domande dalle ipotetiche società sportive che avrebbero trovato casa al paladì abbiamo già fatto una nostra programmazione una programmazione che poi si è incastrata con le esigenze delle varie società sportive quindi saranno diverse le società sportive calcio a 5 pallavolo e basket che troveranno casa sia per le partite in casa che per gli allenamenti all'interno del paladino per il comune di pesaro accogliere la megabox sottolinea anche un rapporto di buon vicinato con valle foglia e il ritorno della grande pallavolo a pesaro la megabox avevano diciamo manifestato la volontà di giocare a pesaro tra l'altro molti degli sponsor della megabox valle foglia sono pesaresi quindi gravitano nel territorio pesaresi altre sono nella zona di valle foglia a valle foglia continueranno ad allenarsi così come si allenavano quando giocavano urbino e giocheranno a pesaro appunto le partite casalinghe sono pronti ai blocchi di partenza i nuovi corsi dell'università dell'età libera che da ben 34 anni è diventata costante punto di riferimento dell'arricchimento culturale dei cittadini ne parliamo col presidente maurizio sebastiani siamo arrivati a 34 anni di università dell'età libera anche in questo mese di agosto è stato confezionato il ricco programma in vista del via dei corsi a settembre ben 120 corsi senza contare le ripetizioni consuete che vanno a moltiplicare ulteriormente questo numero un'offerta sempre ricca e che continua a rinnovarsi certo di fatti oltre come ha detto lei giustamente 120 corsi abbiamo 18 novità tra cui ecco molto brevemente mi piace ricordare lezioni di latino storia della chiesa filosofia filologia italiana archeologia letteratura araba contemporanea ricamo sono tutti nuovi corsi che è sommati a quelli che già facciamo ampliano ancora di più e sempre di più l'offerta formativa che l'unilibera da 34 anni offre a questa città ormai sono tantissimi pesaresi che ci conoscono che hanno frequentato i nostri corsi è ormai diventato quasi luogo comune dire che andiamo a lezione come dire andare al cinema andare a teatro e quindi anche andare a lezione dell'università è entrato nell'immaginario collettivo e nella realtà anche collettiva dei pesaresi un modo di dire e di fare molto molto diffuso e condiviso e di questo ne siamo molto contenti ne siamo contenti perché pur con il post covid che è stato un anno molto che sono stati degli anni molto travagliati la ripresa è stata notevole l'anno scorso abbiamo avuto 1.200 iscritti quindi direi che vicino agli 1.800-2.000 che normalmente abbiamo tutti gli anni siamo stati abbastanza fortunati il nostro scopo è di ritornare quest'anno a quelle a quei numeri delle di 1.800-2.000 perché è la proprio la base di cui questa città ne sente la necessità e ne ha bisogno ricordiamo anche qualche informazione strettamente pratica tempistiche del via le iscrizioni e modalità di iscrizione? Certo la tempistica inizia il 4 di settembre sia online che fisicamente di persona alla nostra segreteria i corsi cominceranno i primi di ottobre gli opuscoli saranno in circolazione a Pesaro dopo ferragosto mentre invece la presentazione dei nostri corsi online è già stata fatta e sul sito nostro dell'università www.uniliberapesaro.it sarà possibile scaricarlo e studiarlo. Proseguono gli appuntamenti del 44esimo Rossini Opera Festival che domani 17 agosto alle 15.30 vedrà al teatro sperimentale il primo dei concerti lirico-sinfonici. Protagonista sarà il soprano Rosa Feola che debutta al festival con un programma concertistico interamente rossiniano. A precedere l'appuntamento alle 11.30 l'ultimo dei concerti al Museo Nazionale Rossini che vedranno protagonisti il soprano Vittoriana De Amicis e i baritoni William Kyle e Giuseppe Toia con l'accompagnamento al pianoforte di Giorgio D'Alonso. La passione per il vino si accende a Gradara venerdì 18 e sabato 19 agosto con l'evento Gradara Wine Passion che porterà oltre 25 cantine marchigiane e romagnole a popolare le vie del borgo tracciando un percorso ispirato alla vite, simbolo di tenacia e resilienza. L'evento è organizzato da Gradara Innova e Connubio Divino e sarà l'occasione per conoscere le storie e i racconti dietro ad ogni etichetta e la possibilità di acquistare vini direttamente ai banchi d'assaggio. Il Paese dei Balocchi riapre da giovedì 17 a domenica 20 agosto a Bellocchi di Fano consegnando le sue chiavi a Pino Insegno. E' lui il sindaco della 19esima edizione e il protagonista di un incontro spettacolo domani sera alle 21 e 15 sul palco Giardino. Un evento preceduto alle 20 dal concerto inaugurale dell'orchestra mosaico musicale che dà il via un ricco programma di giochi, spettacoli, musica e approfondimenti all'insegna del rispetto per l'ambiente. Il tutto collegato dal talento che sarà il filo conduttore di questa edizione. Altro appuntamento di domani è quello che riguarda biblioteca e musei oliveriani che saranno aperti dalla sera all'alba con notturni oliveriani. Un esperimento già testato in inverno e che domani si replica in versione estiva. Giovedì 17 agosto ma è il caso di dire anche venerdì 18 agosto perché sarà un appuntamento che dalle 21 e 30 arriverà fino alle 5 di mattina. Un felice esperimento che si replica quello dei notturni oliveriani in cui biblioteche e museo ci mettono davvero di tutto dalle visite guidate ai luoghi proprio specifici di Palazzo Almerici ma anche teatro, musica, escape room, un po' di tutto. Sì in effetti ritentiamo questo esperimento riuscitissimo a dicembre che avevamo organizzato appunto per l'inaugurazione del museo archeologico. Lo ritentiamo questo 17 agosto con questo numero che insomma sta diventando forse per noi un po' un po' simbolico anche della nostra attività. Lo ritentiamo e quindi sì di nuovo aperti per tutta la notte e dalle 21 e 30 e con iniziative veramente anche diciamo molto diversificate. Ci sarà musica per ballare, ci sarà musica da ascoltare, ci saranno ovviamente le visite guidate per cittadini e anche turisti perché saranno anche in inglese e ci saranno performance teatrali e insomma iniziative veramente molto diverse che appunto inizieranno dalle 21 e 30 e si svolgeranno fino alle 5 del mattino anche un escape room che sarà comunque che si svolgerà nelle nostre sale di lettura. Il tutto accompagnato da un calice di vino perché chiaramente un buon bicchiere di vino aiuta sempre. Come Piazzolo Segreta avremo filmati e fotografie dell'archivio di Gabriele Stropanobili anni 50, anni 60 e supportati da musica anni 60, musica italiana che metteremo su noi da mezzanotte in poi. Ma prima invece entra in gioco Ugo Betti, Ugo Betti perché mi hanno chiesto la direttrice di trovare un gruppo che potesse suonare, fare musica italiana ma io ho visto questo gruppo che doveva non cantare, suonare su un palco ma interagire con il pubblico stesso e quindi ci saranno con noi gli stralunati, sono un trio, due ragazzi e una ragazza, la ragazza canterà addirittura con il figlio perché ha partorito da poco e quindi interagirà con il pubblico che andrà a visitare la biblioteca o il museo bevendo anche un calice di vino e suonando musica italiana. Quindi sarà proprio un'open biblioteca, open museo, bellissimo secondo me. Tra arte e cultura che si mescola in questi notturni liveriani non può mancare il teatro. Sì, effettivamente il teatro è il teatro contaminato perché è un'analogia proprio continua con una canzone di Lucio Dalla che è cara e sono dei giovani che fanno dei dialoghi che si mischiano in qualche maniera con le parole della canzone di Dalla. Chiaramente siamo un istituto storico che conserva un patrimonio importante, la storia della città di peso del territorio e non solo, oltre 2000 anni di storia sono conservate nelle nostre stanze e chiaramente hanno un pubblico di specialisti, di studiosi, di persone che sono interessate chiaramente ad approfondire ciascuno alla propria disciplina. Però non è soltanto questa la nostra finalità ma è quella secondo me soprattutto di arrivare a tutti i cittadini e di far conoscere ai più cittadini possibili tutto quello che noi abbiamo e che in fondo rappresenta l'identità un po' di tutti quanti noi che viviamo questi territori o anche di chi viene qua in visita e di farlo in maniera gioiosa, divertente ma sempre molto rigorosa. Cioè questo ci teniamo perché quello che noi diciamo e raccontiamo è sempre collegato appunto agli avvenimenti storici, a quello che le fonti documentarie raccontano. Però ecco farlo in maniera divertente e non in maniera così soltanto accademica. E concludiamo il nostro telegiornale presentandovi un altro dei tanti appuntamenti di teatro dialettale in programma all'Arena BCC di Fano. Il 18 agosto sarà in scena alla BCC di Fano la compagnia teatrale dialettale improvvisando. Innanzitutto abbiamo qui i protagonisti di questa commedia che nasce, si diceva prima, da quella che poi in realtà è l'esperienza dell'improvvisazione teatrale. Esatto, noi in questa commedia che porteremo in scena, che si intitola Il fidanzato della fidanzata, nello specifico siamo la fidanzata e il fidanzato. In pratica speriamo, diciamo così, che siamo al nostro debutto con questa commedia, speriamo di riuscire a far ridere perché non è sempre così semplice far ridere, più facile far piangere. Però, diciamo così, abbiamo cercato una commedia che fosse appunto attuale ma che comunque perseguisse quello che è il nostro obiettivo di sempre in tutte le commedie che noi mettiamo in scena, che è quello di comunque insegnare una morale e comunque di lasciare qualcosa in più, oltre alla risata che speriamo di farvi fare nel momento, insomma. A noi ci piace sempre, come diceva Claudia, avere una morale e cercare sempre un testo. Questo l'abbiamo preso da Giovanni Allotta, che è un regista siculo, l'abbiamo tradotto, l'abbiamo un po' cambiato a seconda delle nostre esigenze. Ci piace sì, sempre portare una morale perché comunque sia, oltre alla risata, deve passare anche un certo messaggio, poi soprattutto di questi tempi. E con quest'ultimo servizio si conclude il nostro Rossini News di oggi. Prima di lasciarvi diamo uno sguardo ai programmi della serata, che prevedono alle 21.20 uno speciale dedicato alle Buone Notti, girato a Monte Labbate, ottava edizione. E ricordiamo anche per domani l'appuntamento con il Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa, lettura dei titoli dei giornali in diretta alle 7.20, anche con diretta Facebook e in replica alle 8.20, 12.20, 14.20, 18.20. E prima di lasciarvi al meteo, questa volta è veramente tutto. Vi ringrazio per averci seguito, vi invito a restare sempre con i programmi di Rossini TV. Buonasera. 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 Buonasera.